Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale, Christian e Soxy Temperazioni, come sapete già da anni e ormai, lunedì purtroppo ricomincia la scuola, oggi è domenica, il momento in cui sto registrando questo video, sperando di ripubblicarlo domenica o magari sabato prossimo, entro sabato prossimo, magari io lo comincerò a carichere venerdì, non lo so, vediamo. Comunque, non direi come c'era la scuola, purtroppo però, cioè, come da prassi bisognerà portare mascherine, tutto un casino, della madonna che non si capisce più un cazzo. Comunque, purtroppo è la colpa di questa malattia che purtroppo, purtroppo quel nome della malattia non lo posso dire, forse si può dire, non lo so, perché se no mi inculano. Quindi meglio non dirlo, meglio sempre essere sicuri. Comunque, sorvoliamo con questa cosa, sorvoliamo. Oggi volevo parlarvi della Juventus, ovviamente, come sempre, insomma, come gli ultimi video che avete visto, insomma, ovviamente probabilmente mio fratello tornerà dopo di me, almeno spero, perché così almeno comincerò a registrare magari la carriera con il Toulouse, visto che non la porto ormai da secoli. E anche quella con l'Atalanta, idem, ma quella con l'Atalanta la devo fare in live, purtroppo, quindi la devo fare, vabbè, a far caso mai ci faccio qualche video, vabbè, anche con l'Atalanta ci faccio i video, ragazzi, perché se no in live non posso andare in live. Mi dispiace, ma non posso. Sabato e domenica proprio, cioè, sabato e domenica purtroppo mio fratello è a casa, quindi, come sono io a casa, tra l'altro, o forse lui il sabato ce l'ha, non mi ricordo. Comunque, comunque io sabato e domenica sono a casa, quindi, cioè, posso registrare quando mi pare, insomma, ecco. Vabbè, registrò sia l'Atalanta che Toulouse, purtroppo la live non posso farla, ragazzi, che capitemi, avendo un fratello non posso. Avendo un fratello che, ovviamente, appena, cioè, appena si sveglia e gioca alla Playstation, cioè, rompe un po' le palpebre, eh. Vabbè, comunque, sorvegliamo anche questo. Vi dicevo, parliamo del Dara Juventus. Intanto ho allungato un pochino il brodo, giusto per allungare un pochino i video, ma tanto a me non me ne frega uno scipera di allungare o scorciare i video. Insomma, ho scoperto, vabbè, ho scoperto un programma per editare i video che si chiama Filmora9, si può scaricare gratuitamente, è gratuito. Ed è un programma, ancora non l'ho provato, non posso dirvi se è buono o no. Comunque l'ho scoperto e prima o poi lo userò. È un programma di editing, comunque. Sì, probabilmente porterò qualcosa sul computer. Porterò di nuovo magari Bacco e Battle Brothers, visto che riesco a giocarci di nuovo, grazie a WinDS Pro, che praticamente è l'emulatore di qualsiasi cosa, ormai. Del Game Boy, della Wii, del Nintendo, del Nintendo 3DS, di tutto praticamente. Tutto quello che esiste, anzi quello che esisteva. Il Nintendo 3DS ormai non c'è più, o forse se c'è, c'è usato. Il Nintendo 3DS ancora esiste. Il Gamecube non esiste, anzi no, la Game, come si chiama? La Game Console, Nintendo Game, Gamecube, Game Console, adesso non mi ricordo come si chiami. Comunque quella non esiste ormai da secoli. Io ce l'avevo, ma anni e anni fa adesso i miei genitori l'hanno buttata via, perché ovviamente non ci giocavo più, perché, vabbè, avevo due giochi giù di numero. Ci giocavo, qualche volta era piccolo, ma, cioè, proprio, giusto nel momento i morti. Avevo dei joystick che era tipo piccolissimi così. Adesso, vabbè, l'abbiamo buttata via. Era Super Nintendo, mi pare, si chiama. Super Nintendo 64, forse, non lo so. Comunque, sorvoliamo. Dicevo. Vabbè, comunque era il moratorio di qualsiasi cosa, praticamente Dolphin, è diventato il moratorio di qualsiasi cosa. Quindi, se scaricate quello, praticamente, state a posto. Cioè, non dovete scaricare più nulla. Cioè, vi mancano le ROM dei Pokémon o di altri giochi e poi siete a posto. Cioè, non vi serve più nulla, praticamente. Cioè, manca l'emulatore di Nintendo 2DS e siamo a posto, praticamente. Non so se l'emulatore del Nintendo 3DS legga le ROM del Nintendo 2DS. Credo di no. Però, non possiamo saperlo. Nella vita reale, sì. Magari il 3DS le legge, quelle del 2DS. Anzi, quelle del DS le leggi perché ci ho provato io. Una volta. Con i 3DS, il DS le leggeva. Forse. Non, vabbè. Comunque, a parte queste stronzate. Ovviamente, io avevo due DS, uno blu e uno bianco. Una è morta, praticamente, tra batteri e l'altro è finita l'acqua. Quindi, addio. Proprio. E ce n'avevo un altro che era il 3DS fatto così, praticamente, che non si chiudeva. Così. E poi, dopo, mi è caduto per terra e... Ciao. È andato lo schermo. Proprio morto. Ho ancora il caricatore, sì. Però non ci faccio, probabilmente, nulla. Perché non ce l'ho più. Comunque. Survoliamo su queste cose. Se no, allunghiamo sempre il brodo e dopo due palle. Dicevo, oggi è stata prima... Anzi, è stata la prima partita di Pirlo come allenatore della Juventus. Non come giocatore, ma come allenatore. Se fosse come giocatore, magari... Magari tornassero a Juventus. Cioè, magari ritornassero a giocare, ma purtroppo... Non può. Vabbè. Comunque. Queste hanno mai che mi hanno regalato. Non so dove mi abbia... Vabbè. Comunque, non penso che non vorrei fare una ceppra di micchia. Comunque, dicevo. Oggi è stata la prima partita di... Sì, della Juve. Come no. Di Andrea Pirlo come allenatore della Juventus. Ha schierato una formazione all'Antonio Conte, 3-5-2, in difesa di Miral, Bonucci e... Come si chiama quello? De Miral, Bonucci e Danilo. Ovviamente è entrato Lugani con la fascia di capitano al braccio. E, chiaramente... Quando entra Lugani con la fascia di capitano al braccio, ti viene proprio il conato di vomito, proprio fino a qui. Perché proprio Lugani con la fascia di capitano non si può guardare. Perché è veramente scarso. È veramente scarso. Comunque, sorvoliamo. Vabbè, a parte che abbiamo giocato contro il Novara, che era l'ISRC, italiana, ovviamente. Ovviamente tra Juventus e Novara c'è una differenza enorme. A livello di Rosa, a livello di Club, a livello di Trofei Vinti, eccetera, eccetera. Però... Però, dai, abbiamo visto comunque una grandissima Juventus contro il Novara, che hanno subito gol. Hanno fatto 5 gol. Ha segnato Ramsey. Allora, ha segnato Ramsey. Ronaldo, Ramsey. Doppiette riportanova e Piazza. Il grandissimo Piazza che rientra praticamente dopo anni e secoli di prestiti su prestiti ovunque ormai. Cioè, potrebbe fare sicuramente... Per me potrebbe fare bene di nuovo Piazza. Solo a me bisogna puntarci molto. Piazza è stato, diciamo... Molto penalizzato dagli infortuni, perché ha avuto molti infortuni nel corso delle stagioni. Sia con Juventus che con altri club ha avuto molta sfortuna. Non so se Piazza abbia avuto infortuni, boh. Non lo so, sto dicendo cose che non hanno senso. Però comunque è stato molto sfortunato. Cioè, è stato... Cioè, comunque non è... È un giocatore forte, sì, quello sì. Però non è mai stato al top, insomma. Non è che uno fortissimo che dici... Oh, questo è fortissimo, compriamolo subito. No. Cioè, è nella media, insomma. Non è né forte né fortissimo. Cioè, non è né debole né forte. Praticamente è lì in mezzo, insomma. Ecco. Anzi, no. Non è né debole né fortissimo. È praticamente lì in mezzo. E niente. Praticamente è quella la pappa. Cioè, è quella il zucco del discorso alla fine. Tanto come arrivano notifiche su notifiche che a voi non vi interessano. Comunque, hanno giocato McKennie, Rabiot e Ramsey al centrocampo. Non so se abbia schierato Arthur o Arthur nel secondo tempo. Andrà a Pirlo. Non posso saperlo perché non ho visto la partita. Ho visto soltanto i gol. Ho visto la doppietta di Portanova che non so manco chi sia. Forse è uno dell'Under-23 portato in prima squadra. Ha schierato da Pirlo e ha fatto pure bene. Ha fatto il po' la doppietta. Sono almeno un giocatore da tenere d'occhio in Portanova. Non lo so. Perché non posso saperlo. Anzi, non lo sapremo. Perché, vabbè. Probabilmente farà panchina con la Juventus a stagioni in corso. Sì in Serie A che in Champions League. Che in Coppa Italia, probabilmente. Perché, vabbè, è impossibile che giochi. Troppo scavolo. È troppo scarso, insomma. Non ci è dimostrato ancora i livelli, diciamo, del campionato della Serie A o della Champions League. Insomma, non ha mai giocato la Champions League con questo ragazzo. Quindi, che vuoi che capisca questo qua. Cioè, non può reggere l'emozione della Champions League. Non può. Bisogna avere quelli lì che proprio... No, no, no. La Cazzimma, come dice... Come dice cosa? Come dice Della Laurentiis. Vuoi quelli con la Cazzimma per... Era Della Laurentiis, non lo so. Ci vogliono quelli comunque con la Cazzimma per in Champions League. No, no, no. Non la vince. Perché non la vinceremo. Manco il prossimo anno. Manco quest'anno, probabilmente. Non lo so. Vabbè, comunque. Sono ipotesi. Fatte e rifatte. Sul mercato, ormai la Juventus è praticamente fatto. Cioè, gli manca soltanto Suarez da andare a prendere. Anzi, da prendere. Suarez deve fare l'esame per il passaporto italiano. Perché lui non ha il passaporto italiano. C'è la sua moglie. Che, vabbè, è una sua moglie di nazionale italiana. Ma lui no. È uruguayano. Quindi è un extra comunitario. Purtroppo la Juventus non ha più posto per gli extra comunitari. Come ci hanno già detto. Perché hanno già preso Arthur con lo scambio con Pjanic. Cioè, Arthur con scambio di Pjanic. Hanno preso McKennie in prestito dallo Schalke 04. Mi pare che stava lo Schalke. Lo Schalke 04. Quindi sono due extra comunitari. McKennie è statunitense. E Arthur è brasiliano. Quindi sono due extra comunitari. Come prevede, diciamo, il regolamento. Non puoi avere più di due giocatori. Cioè, non puoi comprare più di due giocatori extra comunitari in rosa. Per la tua rosa. A meno che tu non abbia extra comunitari. O per tutti italiani, praticamente. A meno che tu non abbia proprio extra comunitari. Ne puoi prendere tre. Ma noi nel nostro caso ne possiamo prendere solo due. Però in caso Suarez dovesse passare l'esame di italiano. Per il passaporto italiano. E poi venire alla Juventus. Che tra l'altro Suarez non è neanche stato schierato. Per l'amichevole con il Barcellona. Così Pappardella uguale per Vidal. Quindi probabilmente uno andrà all'Inter. Ovvero Vidal e Suarez venrà alla Juventus. E speriamo che arrivi più presto alla fine Suarez. Probabilmente la Juventus non so se si comprerà una pista. Pogba è praticamente improbabile. E' probabilmente improbabile Pogba. Perché il Manchester United chiede veramente una cifra troppo alta per la Juventus. La Juventus non ci può permettere di prendere, di comprarlo. Di comprare, di prendere, come si dice? Di pagare il prezzo del cartellino del giocatore. Perché siccome la Juventus chiede molto, anche troppo, per i gusti della Juventus. Probabilmente la Juventus andrà a puntare su Aguard de Lione. Allora, Aguard è un giocatore che la Juventus stava seguendo anche l'anno scorso. Un giocatore forte. L'abbiamo visto contro il Manchester. Contro il Bayern Monaco. E' stato forte. E' l'unico praticamente che ha giocato bene. Contro il Manchester. Contro il Manchester. Contro il Lyon. Eh sì, dai, un'altra volta. Contro il Bayern Monaco. E' probabilmente l'unico che ha giocato bene tutta la squadra. Dava palloni, faceva cose, dribbling, cose, non lo so, pecorine. Citazione a Gabbo, almeno. Vabbè. Vabbè, comunque faceva grandissime cose. Secondo me la Juventus andrà a puntare molto su di lui. E probabilmente se lo riuscirà, riuscirà anche a prenderlo. Perché ovviamente Wario non vuole restare a Lione. Perché Lione quest'anno non ha la Champions League. Perché è arrivata settima in Ligan. Ovviamente se sei settima non arrivi né in Champions League né in Europa League. O forse sì. No, non ci arrivi in Europa League. Perché per arrivare in Europa League devi arrivare quinto o sesto. Cioè, quinto o sesto per i primi preliminari. Ok, ce l'ho fatto. Ok. Niente, alla fine è questo il succo. Dybala purtroppo è ancora infortunato, è ancora fuori. Oggi non ha giocato Ronaldo e Kulusevski. Probabilmente Kulusevski faceva la prima punta a Ronaldo idem. Comunque è il primo gol di... Cioè, è il primo gol di stato di Cristiano Ronaldo. Il primo gol della stagione. Kulusevski 1-2. Cioè, Ronaldo 1-2 con Kulusevski. Kulusevski gliela mette in mezzo. Ronaldo, la piazza all'angolino. Vabbè. Alla fine era questo. Danilo è stato schierato come difensore centrale. Che abbiamo visto che... Anche con Guardiola è stato schierato difensore centrale. Infatti il City ha vinto tre partite quando Danilo è stato... Messo come difensore centrale. Non mi ricordo il risultato. Mi pare 1-4-0. 7-0. E 5-0. Adesso non mi ricordo di preciso. I risultati. Insomma. Comunque hanno vinto tutte e tre le partite. Quindi Danilo può fare effettivamente il terzo di difesa. Se Pirlo riesce a far diventare a Rugani un difensore decente potrebbe anche restare la Juventus. Se no, se Rugani rimane il difensore scarso come era prima, allora tanti saluti. De Ligt ancora deve essere... Cioè ancora ha fatto l'intervento, sì, alla spalla. Deve essere ancora... Cioè ancora deve recuperare dall'infortunio. E dall'intervento e dall'infortunio. Quindi probabilmente nelle prime partite di campionato e forse anche di Champions League non ci sarà. E... E nient'altro. Al fine è questo. Ovviamente ancora dobbiamo scoprire i gironi di Champions della Juventus. Ovviamente non lo scopriremo fino a totta stagione. Fino a quando non ci saranno i gironi. Siamo fino a quando non ci saranno le estrazioni. Per il gironi di Champions. L'anno scorso è stato Atletico Madrid, Locomotive Mosca. E... Atletico Madrid, Locomotive Mosca. E... E Bayer-Riverkusen. Ok, e Bayer-Riverkusen mi è venuto in mente. Atletico Madrid, Bayer-Riverkusen e... E Locomotive Mosca. Ok. C'è Gesù? C'è il quadro di Gesù. Ciao Gesù. Vabbè, comunque... Spero che questo video vi sia piaciuto. Come se questo video vi sia piaciuto. Vabbè, comunque lo sapete. Sempre. Comunque, vabbè. Speriamo di prendere Suarez o Aguar. Speriamo di prendere Suarez e Aguar. Perché, ovviamente, ci servirebbe un altro centrocampista. Visto che... Ehm... Matuidi. Se ne ha tutto. Vabbè, a parte che ha preso il suo posto McKennie. Che è praticamente... Palloni praticamente fa lo stesso ruolo di Matuidi. Però ce ne servirebbe un altro alla fine. Ne abbiamo... Sei. Quanti ne abbiamo? Abbiamo Rabiot. Abbiamo McKennie. Abbiamo Arthur. Abbiamo... Ramsey. Abbiamo McKennie, Rabiot. Arthur, Ramsey. McKennie, Rabiot. Arthur, Ramsey. Chiedira. Che potrebbe anche andare via. Quindi... Non lo contiamo. Sono quattro alla fine. Senza Chiedira. E basta. Poi Piani ce non c'è. Quindi, alla fine, sono quattro i centrocampisti. Tre sono titolari. E due riserve. Il terzo non conta. Perché Chiedira potrebbe essere... Chiedira potrebbe rescindere comunque il contratto con la Juventus. Perché si è visto nella stagione con Sarri. Sì, ha fatto bene come centrocampista. Sì, quello sì. Però... Era sempre rotto alla fine. Era sempre... Era più in panchina che... Era più in tribuna che in campo alla fine. Cioè... Poi alla fine, quando è stato schierato, non prendevamo mai gol. O quasi mai. Anzi, probabilmente, quando c'era che dire in campo, nella prima parte della stagione, mi pare che non prendevamo mai gol. Però ovviamente, quando era entrato... Quando non era entrato... Quando non entrava, insomma, prendevamo sempre gol. Poi, ovviamente, ha giocato anche dal primo minuto. Dopo alla fine, alla fine, alla fine, questa cosa si è stimentita che alla fine abbiamo preso gol anche quando c'era lui in campo. E niente, alla fine, questa è la manfarina. Non so... Questa, ovviamente, è stata una bozza di formazione. Ovviamente... Pirlo ha fatto anche dei cambi per provare i suoi giocatori, eccetera, eccetera, per provare i giocatori che aveva a disposizione, e altre robe, ovviamente. Ancora il mercato è ancora lungo, finirà a dott... Ottobre, mi pare. Quindi ancora c'è tempo per... per trovare l'accordo con... Anzi, vabbè, la Juve ormai ha da tempo l'accordo con lui su Razz. Il problema è che su Razz deve fare il passaporto, deve passare l'esame, deve fare il passaporto italiano. Poi deve venire da noi, deve volare fino a Barcellona fino a Torino, fare le visite mediche, e prendere la maglia numero 9, perché prenderà sicuramente quella. Alla fine, purtroppo Iguain se n'è andato, ma non sapevamo. Cioè, dalla fine Pirlo l'ha buttato praticamente fuori dal progetto, torna a trovato un accordo con il Pipita, che andrà all'Inter-Miami come come Matuidi. E niente, questo è il succo. Niente, alla fine l'Inter-Miami si prende un giocatore abbastanza forte, insomma, più o meno. Ovviamente prenderà lo stesso stipendio che percepiva da noi, ovvero dalla Juventus. Alla Juventus, anzi. quindi andrà da Beckham e prenderà i stessi soldi della Juventus. I stessi soldi che prendeva la Juventus, non so che mai prenderà, se la 9 o la 21, come ha preso da noi. Da noi ha preso la 21, non ha fatto un gran che, insomma, non ha fatto gran che. servirebbe anche un'altra punta al posto di Suarez o per fare i fiatali, insomma, o Suarez o Ronaldo. Insomma, vabbè, c'è che, vabbè che sia Di Bala, ma Di Bala non è che gioca proprio prima punta. Giocherebbe meglio dietro le punte, ovvero trequartista, come ho detto prima. Però vabbè, Di Bala si può aggettare anche attaccante, ovviamente è ancora infortunato, quindi non lo contiamo. Quindi diciamo che è un attaccante di riserva. eseguirebbe un'altra attaccante di riserva per far rifiatare un po' Sino Suarez, perché ovviamente è che lui ha una realtà avanzata, quindi non è che può giocare tutte le partite, insomma. L'abbiamo visto anche con il Barcellona che si è infortunato molte volte a ginocchio. E vabbè, comunque speriamo che lui prendi Suarez e prendi anche un'altra attaccante, prenda, anzi, un'altra attaccante per, diciamo, la panchina, come potrebbe essere Ken, che potrebbero prenderlo in prestito, non lo so, vedremo. Comunque, adesso vi lascio sperando che non vi abbia benigno iato, ma penso di sì, però alla fine dovevo dire questo e niente, speriamo di prendere un'altra attaccante e niente, questi sono e niente ragazzi, sempre fino alla fine Forza e niente Grazie.